Strade e sottopassi allagati, alberi caduti e rami spezzati. Si è concentrato tra le 19.30 e le 20, il temporale che ieri si è abbattuto su molte zone della provincia pesarese. Sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo. Nel giro di mezz'ora, tanti sono stati i disagi e danni creati dalla bomba d'acqua, rami e piante caduti sulle strade, due frane in zona siligate e anche alcuni blackout elettrici si sono verificati nei pressi di Mondavio ed in altre parti della provincia. A Fossombrone un albero è rovinato a causa del forte vento su una bancarella durante la fiera di San Matteo. La pianta ha colpito solo di striscio un ragazzo di Lunano che non ha riportato gravi lesioni, mentre per lo stand, travolto solo parzialmente, i danni sono risultati ingenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Ancona, 50 in totale, effettuati per alberi e rami pericolanti nelle zone comprese tra Senigallia, Ostra e Iesi. A Fano il nubifragio tra lampi e tuoni ha creato disagi su diverse strade della città come alla Trave, a Fenile, in Viale Piceno e di fronte alla stazione ferroviaria. Problemi anche al sottopasso del Vallato dove a causa dell'abbondante pioggia riversata era possibile transitare solamente a bassa velocità. Ha lagato nuovamente anche il sottopasso del Lido, compreso Viale Carducci. La stessa cosa era accaduta anche dopo la pioggia del 21 settembre scorso ed aveva scatenato numerose polemiche. La Lega Fano aveva definito l'allagamento del sottopasso del Lido un altro disastro firmato Tonelli. Come aveva spiegato Gianluca Ilari, dopo i ritardi della vasca manca ancora l'allaccio elettrico per mettere in moto le pompe di sollevamento acqua. Abbiamo chiesto all'assessore e ai lavori pubblici Fabio Latonelli e ai tecnici chiarimenti a riguardo, ma non ci è stata rilasciata alcuna intervista.